E' uguale per tutti, non è che sono partiti con l'asciutto e gli altri, non abbiamo che E' uguale pulito perchè la prima staccata più lunga si dà molto muro, usa la frizione sulle cambiate, ormai è un rally finito, andiamo a fare la nostra gara molto pulita e molto tranquilla, per favore 30 secondi Soprattutto questo tratto qua sotto, ora ho visto fare la staccata a Peppe qua sotto, l'ha fatta come si fermava per fare la curva Dove? Qua il torrentone qua sotto Ah si? Si si proprio l'ha fatto pianissimo, è che si scivola Sinistra 2, ritarda, l'ultimo piri, chiude e scivola Chiude e scivola Hai visto? Destra piena 50 Sempre sulla destra, stacca, tornando a destra 2, fine masso Che ti avevo detto? Che ti avevo detto, Tommaso? Porco Dio, che ti avevo detto? Accendi, accendi! Che accendo, sto zorbo accendo? Che minchia accendo, sta minchia accendo, tutte cose a tortare Che ti avevo detto, è una stazione